Ciao a tutti ragazzi dal vostro palo SPAL 07 SPAL cararese 0 a 0 per come la vedo io ragazzi secondo me questo è un buon punto non era per niente facile affrontare questa partita contro la terza classificata del nostro girone con la SPAL in piena emergenza fra infortuni e squalifiche e altre defezioni vi dirò ragazzi ho visto comunque una discreta SPAL molto compatta e con la mentalità classica del prima a non prenderle certo che permane la difficoltà cronica oramai nostra di la difficoltà del gol e soprattutto quella di entrare in area con azioni pericolose anche se qualcosa secondo me si è visto è un punto che permette alla SPAL di allungare anche sulla zona salvezza al netto anche delle sconfitte degli altri quindi per come la vedo io è più un punto guadagnato che due perci adesso ci sarà un filotto di partite, le ultime che rappresenteranno per noi decisive per il nostro destino adesso arriva Ancona, arriva Gubbio con in trasferta Gubbio in casa poi ci sarà Lentella fuori poi ci sarà il Pineto e poi l'ultima a Olbia sono tutte formazioni sulla carta abbordabili ma non così facili da affrontare e questa qua sarà appunto proprio il nostro crocevia perché se non vinciamo almeno tre di queste partite qua ragazzi la vedo veramente dura a salvarsi lo vedo anche abbastanza meritato certo è che arriviamo a questa situazione con una situazione che non è così compromessa è anzi leggermente favorevole siamo a due punti sulla zona salvezza ricordiamo che in questo momento il quintultimo posto dei play-out non si giocherebbe per differenza punti con Olbia e quindi sta praticamente solo a noi abbiamo tutto nelle nostre mani e abbiamo cinque partite che potrebbero essere veramente decisive per il nostro futuro abbiamo tutto nelle nostre mani quindi adesso ragazzi bisogna stringere i denti e cercare di ottenere qualche risultato per poter portare a casa la pagnotta e salvare questa stagione che si sta rivelando si è rivelata fino ad adesso abbastanza disgraziata e anche per ciò se è andato al fine del video scrivetemi nei commenti cosa ne pensate noi ragazzi ci vediamo al prossimo video e sempre Forza Spallo